allora ben trovati lunedì di pasqua vogliamo passare insieme a voi come ora solare più che mai qualche momento di serenità in un giorno che è tanto importante nel giorno dopo la santa pasqua noi vogliamo dedicarci a quel modo di dire no la gita fuori porte il picnic insomma come lo volete mettere noi abbiamo cercato di sistemare il tutto nella maniera più elegante e oserei dire unica perché perché è unico è il maestro numero uno di grazia e bellezza il nostro carissimo amico nino graziano luca che torna a trovarci guardate un po chiedo non solo al mio regista alessandro tresa ma la nostra valeria badaloni spalla destra e sinistra del nostro alessandro tresa perché signore qui le donne sono chiamate in causa il picnic più romantico che si possa immaginare nino graziano luca è presidente della compagnia nazionale di danza storica la compagnia numero uno assolutamente inimitabile primo corpo di ballo al mondo di ballerini professionisti di danza storica ma professionisti anche anche qui numeri 1 in assoluto di tutto ciò che gravita intorno a quella storia del nostro costume bontà tua direi la verità la bontà tua di certo noi siamo degli appassionati e cerchiamo di ricostruire in mera filologica forme di divertimento anche non solo gli allestimenti teatrali negli spettacoli con il corpo di ballo e il picnic fa parte di questa storia perché come tu ben sai e come sanno anche gli amici a casa c'è l'idea che il picnic fosse una tradizione prevalentemente sette ottocentesca ma nella realtà dei fatti la storia del picnic dell'idea della merenda all'aperto definiamola così addirittura risale anche all'epoca di plinio perché plinio nella sua epistola la quinta epistola di plinio parla proprio di come si facessero delle merende all'aperto nelle fontane vicine alla sua villa tuscolana e c'era questa cosa veramente diriziosa che nelle fontane venivano messi dei vassoi a forma di barchetta e il cibo galleggiava per spostarsi da un commensale all'altro ed è una cosa credo anche questa come ricordo simpatica assolutamente simpatica nei manuali di cui nino graziano luca è collezionista lo ricordo sempre la sua biblioteca lui se l'è creata da solo per amore per passione in questi manuali si racconta addirittura di non solo del dello stare del digiunare sull'erba del mangiare sull'erba arriveremo anche al famoso quadro ma di danzare ad un certo punto ma si certo perché la danza rientra rientra la danza ovviamente a partire da un certo periodo storico che è dal tardo rinascimento in poi e se ti dovessi dire quelle che sono le danze che preferisco io fare durante un picnic perché poi ognuno balla quello che gli pare è chiaro ma ad esempio a me piace molto ballare le contradanze o talvolta certe quadriglie sai le contradanze stile sette spose per sette fratelli per intenderci ecco che già nella tradizione comunque inglese del seicento fino ai primi anni dell'ottocento era molto diffusa la tendenza di poter spiluccare perché guardiamo che picnic viene da picnic in francese pique nique che sta per spiluccare sciocchezzuole piccole cose per intenderci no ecco l'espressione francese ma anche nella realtà inglese si amava fare queste cose c'è da dire che spiluccare piccole cose lascia dei punti interrogativi perché se tu vedi certi menu del tempo ci arriveremo altro che piccole cose poi lo vedremo si erano erano soprattutto era era ed è ancora oggi un modo per per raccoglierci tutti quanti insieme no per stare più che mai in questo tempo tutti quanti insieme con la gioia del del buon cibo e con la bellezza intorno a noi le fotografie che noi vi mostreremo vengono tutte da questa compagnia nazionale di danza storica nino graziano luca la volta scorsa ci parlo proprio e ci portò questi cuscini che la compagnia nazionale di danza storica ha e ha fatto preparare per potersi poi appoggiare guardate che meraviglia per terra l'imperatrice eugenia con le sue amiche il famoso quadro di winter alter riprodotto in questo cuscino accanto c'è uno dei nostri cuscini invece della compagnia che avendo preso il sole è un po scolorito ma abbiamo voluto portare esattamente quelli che usiamo un uomo precisissimo le nostre ricostruzione il graziano luca è un uomo è un uomo precisissimo questo questo vestito questo vestito che è meraviglioso perché è un abito diverso da quelli a cui noi siamo abituati quando parliamo di compagnia nazionale di danza storica è un po più comodo possiamo dire così allora così questo intanto l'ha realizzato un costumista bravissimo che è andreas di dio è un costume da picnic che avrebbe volendo anche la crinolina per esigenze di spazio qui con il set decorator non l'abbiamo messa ma come vedi un abito comunque cade perfettamente con tanto di cappellino l'ombrellino che credo si veda se non si vede magari vi aiuto lo prendo che ovviamente ton su ton realizzato anche questo perfettamente a mano sempre da andreas lo faccio vedere in favore di telecamera eccolo qui che ovviamente veniva utilizzato dalle signori del tempo perché non bisognava prendere il sole ecco esatto il cestino il cestino da picnic che è quella cosa che tutti noi sogniamo sogniamo di avere perché dice ma tu fai picnic no però voglio il cestino e così alla fine è anche così si fa e che in fondo parla nino di attimi di bellezza e di convivialità perché questo rimane anche nelle vostre fotografie questo resta il picnic che lo si faccia in abiti storici o meno assolutamente sì perché vedi c'è tanto bisogno semplice secondo me di semplicità anche nella vita e anche oggi nonostante magari uno ami la bellezza la bellezza sembra che abbia a che fare talvolta con certe formalità ma non è vero perché poi anche in gesti come questi di ricostruzione vedi questa è una mamma con i suoi figli no e non è che lei abbia costretto i bambini a venirci avessi visto come si divertivano perché una forma di gioco meravigliosa perché ovviamente poi c'è la cura del dettaglio in ogni particolare ma poi i bambini amano giocare amano anche travestirsi allora noi vi racconteremo tante cose grazie a nino graziano luca vi faremo anche fare un viaggio nel tempo in quel tempo che in fondo è non voglio dire sia l'altro ieri però non è così lontano e racconteremo racconteremo di questa di questa pasquetta vogliamo ricordare anche questo noi discepoli vanno verso Emmaus e c'è l'incontro con gesù e è il lunedì dell'angelo è il lunedì che sicuramente porta all'interno di ognuno di noi ancora nonostante noi parliamo di picnic e di cose che potranno sembrare di frivo le quel senso di speranza che mai come in questo periodo ci serve ma avevo promesso serenità promettiamo serenità siamo l'ora solare con nino graziano luca ci vediamo tra un attimo il tempo di farvi venire l'appetito altro che poche cose da mangiare caro nino ma ne parliamo tra un atto allora allora solare allora allora è tempo di picnic in questo lunedì dell'angelo in questo lunedì dopo pasqua in questa pasquetta con nino graziano luca è l'ideatore sommo presidente della compagnia nazionale di danza storica che è presidente direttore l'uomo che ci ha reso possibile abbellire lo studio con quella idea di picnic di altri tempi ma sai che visto che siamo a tv 2000 si può dire che anche il santo della gioia san filippo neri nel suo pellegrinaggio delle sette chiese no le sette chiese romane fini per dare il la ad una forma di picnic potremmo dire vero e proprio con coloro che lo seguivano perché nei momenti della pausa lui regalò si legge proprio nella storia a questi uomini perché nonostante lui mettesse insieme all'oratorio sia le fanciulle che le fan che i fanciulli come tu sai in realtà nel pellegrinaggio si parlava solamente di uomini e poi regalò questi momenti di pausa con una pagnotta due fette di salame due mele un po di formaggio il fiasco di vino ma per due persone solo per solo per due non di più non di più e quindi che veniva poi consumato all'aperto durante i due giorni del pellegrinaggio quindi una forma tra virgolette di picnic ci fu anche lì se ci fai caso allora no ma questo è nino guardate noi quando invitiamo nino garziano luca andiamo tranquilli perché lui è un una raccolta di storie vere e belle però belle messe insieme dalla dalla bellezza stessa della storia e da quel tempo che ci piace sempre andare a guardare perché in fondo quello che la compagnia nazionale di danza storica fa è un mettere nel retrovisore bellezza ci proviamo questo succede allora abbiamo detto l'origine della parola quanti di voi lo sapevano io l'ho imparato l'ho imparato oggi vergogna no vergogna ma me lo sta insegnando un gran maestro allora dal francese pic prendere e nick una piccola cosa sì che poi in realtà sarebbero due verbi piquet e nicchè ecco perché piquet proprio a spiluccare e nicchè è un'espressione in realtà oramai difficilmente usata no c'è chi la traduce come dicevo prima in sciocchezzuole o piccole cose però vedi visto che parliamo di francese si adoro e parliamo di sciocchezzuole adesso ti faccio ti faccio allora questo è il la traduzione in italiano del grande dizionario di cucina di alexandro diumà si è proprio diumà esatto proprio diumà proprio lui ci siamo ora hai capito bene sciocchezzuole ora se uno va ad aprire questo testo e vai a vedere una parte dedicata proprio alle collezioni da da caccia tra virgolette quindi proprio i picnic dell'epoca senti le sciocchezzuole che mangiavano queste persone il menù doveva prevedere tutti aspetti cosa un paninetto vero oggi diremmo una pizzetta invece senti un po pasticcio di pollame e prosciutto poi lepre in salmì il salmì come tu sai è quel metodo di cottura in cui si deve marinare con il vino le le spezie con le erbe aromatiche così via lo stufato di coniglio giovane alla cacciatora il cascio il cosciotto d'agnello con fagioli bianchi insalata crema la paesana e poi un dolcetto non glielo vuoi mettere ma no figurati dopo tutte queste cose quindi per dessert torta farcita e volendo anche formaggio da dopo pasto frutta e pasticcini vini champagne caffè e un cognac ha capito le sciocchezzuole io sa io avrei mangiato solo il dolce perché non mangio carne da anni neanche se mi pagano ma insomma rifacendo un salto indietro e tornando a quei tempi era veramente altro che nicchè picchè ma ma no ma non sono ma no era era veramente un grande pranzo di carbonato poi con una fettina di limone secondo me un rimedio successivo lo dovevano pensare forse il cognac che serviva questo si chi lo sa chi lo sa chi lo sa meraviglioso ma non è l'unico perché se ci facciamo caso io poco fa ti accennava come abbiamo parlato di plinio ma già ipotizziamo anche nel 300 perché il caso di filippo neri che ho citato è in pieno rinascimento ma volendo anche nel 300 nel periodo medievale ma pensa al boccaccio e al decameron dove nastaggio degli onesti che è uno dei protagonisti come tu sai del decameron proprio parla di questo pranzo organizzato sotto i pini anche se però a tavola e non per terra però era sempre nella formula da merenda all'aperto e qui ti chiedo il picnic è bello quando inequivocabilmente signori è così come in questa fotografia compagnia nazionale di danza storica sempre cioè è proprio essere appoggiati nulla contro i tavolini però insomma la bellezza sta proprio nel fatto che tua debba avere il cuscino per sederti che sia una cosa diversa da quella che si fa di solito sì ma questo visto che potremmo già parlare di cose legate alla contemporaneità perché noi abbiamo parlato di storia adesso ma io dico proprio che la bellezza intanto è anche nella scelta del posto in cui tu vai a fare il picnic e accompagnare lì la persona amata la tua famiglia gli amici no e anche un modo per condividere un panorama che hai apprezzato in un momento casuale lo condividi con l'atto del convivio migliore cioè il degustare insieme qualcosa di semplice il bere una bevanda fresca ecco e volendo oggi come oggi possiamo anche dare dei consigli io ad esempio come andrei ad un picnic io parlo di me cioè bisogna essere assolutamente quanto più semplice possibile dire che una signora è bene che vada comunque anche lei con un pantalone così come ho il pantaloncino corto lungo per non avere l'imbarazzo no ti siedi come vuoi sei libera sei libera di sederti come vuoi ecco al di là dei costumi ottocenteschi che stiamo vedendo nelle immagini dei nostri picnic parlo proprio dell'appuntamento del picnic così che vuoi fare per divertirti esatto come quello che faremo tra poco quindi fare in modo di avere un abbigliamento semplice poi siccome un picnic solitamente talmente piacevole che uno tira tardi portarsi un maglioncino avere anche la possibilità di avere una camicia avere tutta la situazione di comodità vera e di controllo del tutto sì con semplicità insomma con semplicità e qui lo devo citare lo voglio citare il mio adorato papà con quel sacco nel quale tutto deve essere riposto bisogna lasciare il posto più pulito di come lo abbiamo trovato Edouard Manet, Dejeuner sull'herbe il Dejeuner sull'herbe era il famoso quadro tu adesso non so se lo vedremo era il quadro del 1863 che Manet fece in realtà facendo anche due citazioni colte molto importanti perché si richiamò ad un quadro del Tiziano e a un altro di Raffaello proprio nel tentativo vediamo di poter rappresentare una situazione che fu considerata scabrosa per il tempo vedi come ecco il soggetto a sinistra maschile pare che fosse il futuro cognato di Manet mentre il soggetto a destra era uno dei due fratelli di Manet la ragazza che vediamo nuda che in realtà è denudata perché se tu vedi ci sono i vestiti giù in basso a sinistra doveva essere la modella preferita all'epoca di Manet ora tendenzialmente lui ha fatto una forzatura perché la scena tranne la ragazza nuda è una scena che veramente avrà visto nei parchi del suo tempo davanti a sé ed è un modo anche per avere il suo punto di vista perché pare che in qualche modo le donne del piacere dell'epoca poteva capitare che si incontrassero anche nei parchi come sta succedendo in questo quadro ora Manet in realtà tu pensa che venne rifiutato dal famoso Salon in cui doveva esporre questo quadro e poi Napoleone III fece il Salon de Refusé cioè il Salon dei Refusé assolutamente e fu lì che divenne poi popolarissimo questo quadro meno male, vedi quel Napoleone III quante cose buone ha fatto in quanto cominciamo da questo quadro buon lunedì di Pasqua a Nino Graziano Luca grazie a tutti gli amici di TV2000 ci tengo a dire ancora una volta a Compagnia Nazionale di Danza Storica unica ed inimitabile grazie di essere stato con noi grazie a te Paola e grazie a tutti gli amici di TV2000 abbiamo bisogno di una TV così e noi siamo qua per voi grazie davvero Nino